L'altra parte, eh, bravo, così, sì! Andiamo, tutti, ah, Birlina si ha acceso il fortale, oh, grandi, bravi si Mi rivi... Eh, 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 che faccio Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo sulla TSS del spawn survival Che sto spawner è qualcosa di allucinante Cioè, 30 secondi per farla intro, avevo postato la roba, sono venuto qua 30 secondi e... Ok, questo è quanto Produce davvero, davvero troppo Infatti io ho una quantità di roba prodotta allucinante Ho fatto anche alcuni trade, ho 12 smeraldi, sono spawnati un sacco di villager Adesso posiamo tutto e ci andiamo a prendere tutta la rotta in flash che abbiamo Che è parecchia, tanta rotta in flash, molto molto bene Scendiamo velocemente, adesso ci andiamo a massacrare di trade un vi... Ah, cazzo, non ho... non ci ho pensato, è vero Devo prendermi un piccone, sì, un coso, un piccone, un'accetta, stessa cosa Avevo un lingotto di ferro una volta, io non so dove l'ho messo però Cioè, probabilmente, no, qui non ci può stare Ehm, no, no, sinceramente, vi giuro non lo vedo Magari, che cazzo, che c'è figlio ha fatto il coso? Vabbè, boh, non lo so, ha fatto i sega Però volevo farmi il piccone in ferro, sarebbe stata una roba tanto figa Però vabbè, boh, te sega, dai Ok, metti questo qui, così No, 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 fermi, 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 ok, va bene Poi stacca questo, fai così Uno di qua, l'altro poi ne tengo io per voi, va bene Allora, ragazzoli, com'è la questione? Tu mi scambi questa Ecco qua, perfetto, tu sei quello che interessa a me Perché non mi metterlo anche qui? Pensavo a me ne mettesse due e facesse uguale Bin, 13, cioè ci vuole una quantità di tempo allucinante Speriamo di farne almeno 18 in modo tale Sì, ok, adesso me lo sblocchi Ok, andiamo da quest'altro, alla fine stessa cosa Anche se ne perdo una Dovrebbe essere la stessa cosa 19 smeraldi Poi stringhe, stringhe Io, porca miseria, non ho roba per far stringhe Questo è la carta Eh no, no, non c'è andata granché bene Devo essere sincero, non c'è andata bene Perché le stringhe sono roba attualmente non farmabile per me Come faccio a farmi le stringhe? Cioè no, in teoria potrei farmelo Ma con il mob spawner attuale non posso E vabbè, fonte sega Adesso ci facciamo un paio di blocchini Di smeraldo E con questi paio di blocchini di smeraldo Che cosa ci dobbiamo andare a prendere? I secchi di lava Exactly Bim Due secchielli di lava Ne dobbiamo prendere tantissimi Perché dobbiamo farci l'ossidiana E l'ossidiana lo dobbiamo fare nel punto Come si fa a fare l'ossidiana nel punto? Adesso vi insegno piano 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 Adesso ci andiamo a prendere un sacco di cobblestone Cosa che io attualmente non ho Proprio zero Zero, 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 zero Ma dai, che cosa è ridicolo è Comunque ci prendiamo un bucket Un altro pezzetto d'acqua Poi mi vado a fare qualche pezzo di cobblestone E vi faccio vedere come funziona Mi sono allontanato per fare la piattaforma qua Un po' più lontana Magari poi premendo shift Già andiamo a fare sta roba qua Allora Facciamo intanto il primo giro Così Poi così E a noi da due Quindi quattro Ne servono altri Così Perfetto Poi allarghiamo la piattaforma Perché voglio farla simmetrica È brutto farla spagliata Tra virgolette Quindi faremo una cosa del genere E andremo a metterne un altro qua Così almeno viene più carino Ok ce l'abbiamo Questi due saranno i pezzi da mettere Poi facciamo tutto il giro Così Così Mettili anche di qua Perfetto Adesso dobbiamo bloccare l'acqua Cioè dobbiamo bloccare la roba là sotto Quindi fai così Tac Ti tiri giù E mi vai a mettere Proprio abbiamo La fortuna di averli pari Una roba di uno qui Tac tac Perfetto Risaliamo E adesso Adesso ci andiamo a creare St'ossidiana Questa ossidiana qua Voglio un attimo fare una modifica Togliere questo Riprendermelo se riesco L'ho ripreso No non l'ho ripreso Oh sì Grande mamma mia Fenomeno Metti qua questo E poi ci vai a buttare giù L'acqua Vediamo se Lo metto qui funziona No ok percato Fatto il primo Stesso procedimento qua Così E eccolo qua Secondo pezzo d'ossidiana Poi dovremo fare impalcature Per creare tutte le varie strutture Però ok Non è difficile Abbiamo creato due pezzi d'ossidiana Ci vorrà una vita Perché poi dobbiamo farne altri tre Sopra Quindi una roba del genere Altri tre qui Tre qui Sono sei Sono sei E più altri due Sono otto Per Quindi nove blocchi smeraldi Per nove Sono ottantuno E Ottantuno Per una trentina Approssimiamo Saranno quasi Due mila E qualcosa Pezzi di rotten flash Chapeau Cioè Stealth Davvero molto molto stealth Adesso dovrei stare tipo Adesso mi metto Guardate Facciamo una figata Guarda Guarda Facciamo così Dammi la rotten flash che ho Tutta Tutta la roba che ho Faccio così Così Aspettate eh Così 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 Tac Tac Poi mi prendo i secchi vuoti Li metto così Adesso vi spiego anche il perché Levo tutta sta roba Questa la mettiamo così Tac E me ne vado a prenderla Rotten flash Almeno non prendo tutta l'altra roba Cioè la gra Merda al mondo Ma chi mi frega C'è fotte segano Io mi metto qua Raccolgo solo rotten flash Tutte le altre cose non mi interessano Quindi le evito E infatti vedete Restano qua Posso camminarci solo quanto mi pare Resto qua Poi una volta Che ho aumentato Posso fare una roba del genere Posso mettere Levo di No No buono Così Tac Poi ne prendi un altro Fai così Così Ok Una roba del genere Il è massimo Ci siamo Appena ho riempito questi stack Ci rivediamo Sì sono morto malamente Però diciamo che Non so quanto sia passato All'ultima clip Circa 6 ore Forse anche qualcosa di meglio Praticamente inizio a registrare la mattina Adesso è pomeriggio inoltrato Ma va bene lo stesso E Sono morto Non so che era Però vedo che i risultati sono stati C'è un sacco di roba Talmente tanti item E rispawniamo Vediamo un po' Grande abbiamo completato tutto Fantastici Fantastici C'è tutto quello che avevamo preso Grandi 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 Molto molto bene E quindi adesso Giù di trade Giù di trade pesanti Pesantissimi Non è che mi è spawnato qualcosa Perché sono in FK da tantissimo tempo Quindi magari Che cosa è successo Ok Va bene Ci siete No Non sembra essere successo Non l'hai particolare Non ho il piccone Giustamente Non ho il piccone L'ho posato Sono un genio Ma va bene lo stesso Oh Grandi comunque Guardate la roba che abbiamo fatto C'è è passato Vero tantissimo tempo Però il mob spawner È molto molto efficiente Ho perso una quantità di item Stratosferica Però Vabbè Fotte sega Dai non è così importante Tanto che me ne faccio Di Rottenflash C'è una talmente Sì di gunpowder Buon meal C'è una talmente tanta Che è inutile Continuare a prendersi Che ci facciamo Niente Ah eccolo qua Il mio piccone Ragazzi siete pronti C'è non so Quanti smeraldi Facciamo Però penso tanti Quindi mi raccomando Forza 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 reattivi Voglio Fate giù Scrivete quanti smeraldi Riusciremo a fare Perché non ne ho la minima idea Ma fotte sega È così E qui tanto Non posso uscire lo stesso A meno che non esponi Un altro piccolo E me ne esca Ma non mi interessa Particolarmente Se ne esce Uno piccolo Lo posso massacrar male Basta che ho questi due qua Va bene Iniziamo Forza Con lui E poi con l'altro Giù di trade Siamo a 4 5 Dai 6 E Si è bloccata Andiamo dall'altro Questo qua Con 38 Che forse è un po' più efficiente Ma alla fine per uno Smeraldo Non vado a sindacar tanto Abbiamo fatto un altro blocco Forza così 2 Madonna ci vorrà una vita No no Non è possibile Io vi giuro Cioè sta roba è improponibile Davvero Due blocchi Facciamo altri due blocchi Ma come si fa Per fare una roba del genere Dai subia Cioè ragazzoli È impossibile Ma vi rendete conto? E adesso devo comprarti qualcosa Per forza Sto scherzando Ok Si è liberato di nuovo lui Quindi siamo a 15 16 Dai che ce la facciamo Forza A fare due blocchi Si però Non è che si può andare avanti A due blocchi signori Perché è Deleterio Sei ore due blocchi È impossibile Come fai? Ok Avrei Altri scambi da fare Probabilmente si sono bloccati Dobbiamo aspettare che spona Qualcun altro Vero? No Si è liberato di nuovo Bravissimo Così E basta 22 22 22 Sono pochissimi ragazzi 22 è troppo poco Cioè non ce la faremo mai Sono scambi improponibili questi 22 cioè sono altri due blocchi E mezzo Che non è male Due blocchi e mezzo Abbiamo fatto E adesso questo Ci andiamo a prendere adesso La cosa Paurosa Direi L'impalcatura Vi faccio vedere come funziona St'impalcaturina È abbastanza stealth La questione Mi serve della cobblestone Perché non ho cobblestone Esatto Lo vado a prendere Ok è vero Va bene Va bene Ho farmato un altro po' Però ci avevo preso la mano Mi serviva Dovevo farlo Adesso Adesso la questione è ardua No scherzo Fa schifo Perché ci ho 30 secondi A fare sta roba Metti qui questo Fai così Tieni qua Tac Un altro fatto Non ci vuole un cazzo In verità Farlo Vabbè Io ve lo dico così Per correttezza Abbiamo preso questi Ok risaliamo Adesso di nuovo Ci servirà a fare un altro spazio Quindi così E poi vai a mettere Tutta sta roba intorno Uno Due Tre E quattro Lo possiamo fare anche doppio Secondo me Viene meglio Più carino Fai così 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 No Qui non ce lo devi mettere Scherzavo Lo devi Grazie Poi vai sopra Fai così Tac E ce lo metti Preso questo pezzo Ossidiana Ce ne manca l'ultimo Bim Perfetto Ossidiana fatta Mezzo portale Abbiamo fatto in un episodio Mezzo portale Del nether Ma come si fa Dai Non è possibile No oggi ci voglio andare Vi giuro oggi vado nel nether Cioè a costo di registrare Sta roba Stanotte Oppure Non so quando Non so come Non so perché Ma io devo fare Sto portale Porca miseria Mi ci devo impegnare Devo fare Vi giuro sto portale Che faccio Mi rimetto a farmare come i draghi Tanto non è che serve niente Cioè vai lì Farmi E poi ti ritorni qua Fai un altro pezzo di portale E così via Ci vorrà tanto Fotte sega Eccoci Ci siamo Ci siamo Siamo pronti Vi giuro stavolta Ci siamo Siamo pronti per accendere Il portalone Del nether Allora perché ho Tre secchi di lava Quando ce ne mancano due Adesso vi spiegherò Tutto nei minimi dettagli Fatemi salire Tanto lo sapete Perché lo faccio Cioè è inutile Che io vado a fare Tanta suspense Poi tanto lo sapete tutti Quindi è inutile Così Così Poi mi serve un pezzo qua Mi serve un pezzo qua Così 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 Leva questo Leva questo Adesso se ho sbagliato Mi ammazzo Però è uguale Dai fotte sega Ma io faccio una roba del genere No infatti Non funziona Pensavo Pensavo Avessi buttato via Tipo Anni e luce Ho sbagliato No ok Non ho sbagliato Oddio Mini infarti Ma va bene Questo lo possiamo No questo lo teniamo Tanto è carino Vorrei salire un altro po' Però perché dobbiamo Prima finire questo Infatti ecco L'inutilità della mia operazione È stata tale Da farmi perdere Tanto tempo Perché io sono ricaduto Perché sono un fenomeno Ma come cazzo si fa Dai Forza la stanchezza Sto giocando da 6 ore E mezza Vai finito il portale Ragazzi chiudete le valigie Il portale È completato Finalmente Ce l'abbiamo Abbiamo il nostro portale Del nether Ma non è finita Non è finita qua Non finirà mai Perché non finirà mai Perché adesso Dobbiamo fare L'accensione del portale E è un po' un casino È un po' un casino Perché è un casino Perché non abbiamo L'acciarino Come ben sapete Non abbiamo gravel Non abbiamo l'acciarino Non abbiamo nulla di nulla Va bene Ok Come no Come facciamo Easy stealth Non è difficile Allora l'idea è mettere Un pezzetto di legno qua Qui lo ricopri Questo lo fai prendere fuoco No Come facciamo Boh Che lo so C'è una roba del genere Proviamo eh Vediamo un po' Cioè qui però Non mi deve andare Da quest'altra parte Tipo così Ok Eh però mi gira di qua No non va bene No no non deve girare Non deve girare Dobbiamo far prendere fuoco Sta parte Dobbiamo far prendere fuoco Questa parte qua Quindi se il fuoco sta qui Magari si propaga Si propaga di là Però per ora Facciamo così Ok Dobbiamo far incendiare Un sacco di roba Quindi così 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 Va bene Vediamo se prende Adesso non ci resta che aspettare Il fatto Cioè Metterci qua Aspettare che prenda fuoco Sto legno Poi aspettare che ne prenda fuoco Altri Ripiazzare i blocchi E così via E ci vorrà Penso tanto Ok si ha preso fuoco Attenzione sta prendendo fuoco Adesso si dovrebbe espandere Porca puttana Sto coso ti prego Passa di là Dai passati là Dall'altra parte Eh bravo Così Sì Andiamo Tutti Ah Berlino si è acceso al fortale Grandi bravissimi Oh aspetta 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 Voglio recuperare il tutto Siamo geniali Grandi Grandi ragazzi Grandissimi Adesso ci buttiamo No 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 Adesso Ho faticato talmente tanto Che nel nether Ci andiamo Nel prossimo episodio Mi raccomando ragazzi Giù voglio una quantità di mi piace Incredibile per tutto il tempo Che ho dedicato a sto cazzo di portale Madonna E il portale più faticato Della mia Della storia Però ce l'ho fatta Sono davvero stra contento In tutti i casi per questo video A tutti vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo lasciare un bel mi piace Se vi è piaciuto proviamoci Arrivare a mille mi piace Per sto portale Per tutto il tempo che ci ha passato Iscrivetevi al canale Che ho già fatto Condividete il video su facebook Per farmi lasciare le persone Mi raccomando Passate tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e video Per ottenere gemme gratis Su Clash Royale Noi ci vediamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi